Poteva essere la giornata dell'allungo, se non decisivo, ma importante in testa alla classifica. Diventa una domenica complicata, nella quale il pari contro l'ultima della classe arriva in zona Cesarini e su calcio di rigore. Oltre all'incertezza, il girone A di promozione Abruzzo dispensa sorprese a ripetizione. L'esempio classico arriva nel match Nero Stellati-Poggio-Parisciano. La prima contro l'ultima, ne esce un 2-2 che ridà invece slancio alle inseguitrici che si avvicinano alla vetta. La ventiquattresima giornata infatti diventa propizia per Pontevomano e Virtus Teramo, entrambe vittoriose in trasferta che accorciano almeno uno dal vertice. Successi pesanti per le due squadre, impegnati in veri e propri scontri diretti. Il Pontevomano passa a Mutignano, che in questa fase sembra segnare un tantino il passo. La Virtus Teramo invece piazza un colpo importante sul difficile terreno del Castellalto. Classifica nuovamente rivoluzionata dunque con il Santomero, che prende un pari comunque importante al Luco, campo mai semplice, e il San Gregorio, che si riscatta dopo lo stop in Vibrata e fa valere il fattore campo, superando in una girandola di gol ed emozioni in Fontanelle. Situazione complessiva in ogni caso che non muta, visto che sono sempre 8 le formazioni nella parte alta della gradatoria, reacchiuse in appena 4 punti. Vietato fare previsioni, anche perché si rischia seriamente di essere smentiti la domenica successiva. E domenica altri due scontri diretti in alta quota. Pontevomano-Nero Stellati e Santomero-Mutignano. La squadra della domenica, però, è con ogni probabilità il controguerra, che dopo il caso Nardini, tecnico esonerato e giocatore in ammutinamento fino a giovedì, torna al successo dopo una lunga stinenza contro Real Carsoli. Vittoria salutare e importante in chiave salvezza, con il nuovo tecnico di Giacinto in panca. Vince la paura in altri due scontri diretti in bassa quota. Finiscono senza reti, notaresco a Calcio Giulianova e Colonia Tossicia. E domenica va in scena una sorta di spareggio, salvezza tra Calcio Giulianova e controguerra. Grazie.